Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuzz. Oggi parliamo di Waco, o Wacone, un re dei Longobardi ingiustamente dimenticato e fautore della più longeva dinastia Longobarda. Bentornati sul canale, come sempre un ringraziamento ai nostri Patreon, ai nostri abbonati. Se volete supportarci, quelli sono ottimi i modi, altrimenti ci sono i super grazie. O, infine, importantissimo, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina. Come vi dicevo nell'intro, oggi parliamo di Waco, o Wacone, un nome di re Longobardo che probabilmente a molti di voi non dirà nulla. Eppure, nonostante questo, è, a mio parere, uno dei re di maggior successo della storia Longobarda. Ma allora perché se ne parla così poco? Beh, partiamo da un presupposto. Mi è venuto in mente di raccontarvi la storia di Waco perché martedì 10 giugno sarò ospite del canale The Age of History. Mi hanno chiesto di collaborare con loro per una diretta a tema La regalità ai re Longobardi. E mentre appunto riflettevo sui contenuti un po' più interessanti da portare per non limitarci a una didascalica elencazione di re, mi è venuto in mente che effettivamente sul nostro canale della Fara non avevo mai parlato di Waco e della sua importanza dal punto di vista dinastico. Sì, perché possiamo misurare in molti modi la fortuna e il successo di un re, i suoi risultati militari, i suoi risultati economici, ma anche quanto dura la sua dinastia. Beh, Waco si colloca sulla carta alla fine di una dinastia. Suo figlio sarà l'ultimo dei Letingi, da Leti, il loro fondatore, e re Longobardo, in quella fase pre-italiana che proprio nel momento di Waco li colloca nel basso Danubio fra l'Austria e l'Ungheria. Forse proprio per questo motivo di questa parte di storia si parla molto poco, anche perché lo stesso Paolo Diacono nell'Historia Longobardorum ci dà pochi tratti molto veloci. Eppure diventa interessantissimo se uniamo i puntini. Sì, perché, senza spoilerarvi i contenuti della live di martedì, uno dei punti di debolezza che gli studiosi tendono a indicare della monarchia Longobarda è quello di non aver mai costruito una dinastia stabile, e anzi di vedere il succedersi continuo nei 200 anni di regno italiano di diverse dinastie o tentativi di dinastia. L'unica che viene citata come una dinastia abbastanza fortunata e di successo è quella bavarese, che fra il 589 e il 712 offrirà diversi re. Ma cosa c'entra allora con il regno Longobardo invece degli anni 40 del VI secolo in Austria? C'entra perché, se guardiamo alle cose con la giusta prospettiva, la dinastia è la stessa. E ci mostra quindi una continuità dal V-Sesto secolo alle porte dell'Ottavo. Mi spiego meglio. La dinastia dei Lettingi è una dinastia caratterizzata da una semplice elencazione portataci da Paolo di Acono di questi re della periodo preitalico e si sofferma più a lungo proprio su Waco o Wacone perché è il penultimo di questi re, ha una politica militare piuttosto aggressiva, sottomette gli svevi, si scontra con i gepidi anche per alcune questioni dinastiche, aveva rubato il trono a un altro Lettingio che si rifugia presso i gepidi, una situazione che poi porterà, secondo Paolo, a quell'inemicizia che vedremo negli episodi legati invece alla vita di Alboino, però poi appunto viene liquidato così molto velocemente, con alcuni però brevi riferimenti alla sua vita sentimentale amorosa, nel senso che fra le varie politiche attive di Waco c'è anche una complessa rete di legami attraverso i matrimoni. Sì, perché Waco si sposa tre volte, se non sbaglio, ha diversi figli e figlie, e fra queste una principessa di nome Valdrada o Valderada. Questa principessa a sua volta avrà una vita matrimoniale molto complessa, perché è mandata prima in sposa a un principe franco, verrà poi sostanzialmente ereditata da un altro principe franco quando il primo morirà, e da quest'ultima poi ripudiata per intromissione delle cariche regge. La cosa che però ci interessa è che alla fine Valdrada trova, diciamo, la sua ultima fermata presso Garibaldo, duca di Baviera. Da Valdrada Garibaldo avrà figli e figlie, in particolare figlie, e una di queste sarà niente po' di meno che Teodolinda, che sembra nascere nel 570, cioè poco dopo l'invasione Longobarda in Italia, e che ricomparirà poi nella storia Longobarda come moglie di Autari prima e di Agilufo poi, dando inizio a quella famosa dinastia bavarese che gli studiosi italiani riconoscono come la più longeva all'interno della regalità Longobarda. Ma, se noi teniamo conto che nel mondo Longobardo, proprio per l'esempio di Teodolinda, per l'esempio di sua figlia Gundeperga, e potremmo fare degli esempi anche ducali, che magari faremo però alla live, la regalità e il riconoscimento dell'autorità reggia viene passato anche attraverso la linea femminile. Di conseguenza, questa dinastia bavarese, che tra l'altro così viene chiamata, proprio a partire da Teodolinda, e poi certo anche da suo fratello, ma quindi partendo da il ramo femminile, altro non è che una prosecuzione della dinastia Lettingia, per ramo femminile, perché Teodolinda altro non è che la nipote del penultimo dei Lettingi. In questo modo si delinea una continuità nei secoli a cavallo e poi successivamente dell'invasione italiana, dell'invasione in Italia dei Longobardi, andando un po' in contraddizione con questa definizione della scarsità di una dinastia principale. In realtà vedremo che, ma ne parleremo appunto martedì, che all'interno del mondo Longobardo le dinastie erano numerose, alcune storiche, altre mitiche, alcune leggendarie completamente, ma quella bavarese pare aver avuto un'importanza fondamentale, ma non sufficiente a creare quella assembramento di poteri e quella stabilità che invece succederà nel mondo franco, prima merovingio e poi carolingio, per usare un anacronismo, nonostante appunto la famiglia di Carlo sia una famiglia di nuovi venuti, non sia l'originale dinastia franca. I paragoni terminano qui, ad ogni modo. La figura di Huaco trovo che sia particolarmente interessante soprattutto da un punto di vista europeo. Noi spesso tendiamo ad analizzare la storia dei Longobardi per quello che riguarda l'Italia, ma immagino dei franchi in Francia, dei visigoti in Spagna e via così, con un'ottica ancora nazionalista. Mi spiego. Non ovviamente come nell'Ottocento e poi con gli orrendi danni fatti nel Novecento, non nazionalistica, ma ancora nazionalista, sì. Come i Longobardi hanno contribuito alla nascita dell'Italia, o l'hanno distrutta, dipende dai punti di vista, no? Come i franchi hanno creato la Francia, eccetera. Ma in realtà, nella dimensione dell'epoca, il respiro era fortemente europeo. E la dimostrazione si vede proprio nel caso di Huaco, dei suoi antenati e dei suoi discendenti, che uniscono il periodo della fine della migrazione Longobarda, il nord delle Alpi, con l'Italia, attraverso matrimoni all'interno di popolazioni, che teoricamente vengono tutte riconosciute da moderni stati come loro antenati, ma che in realtà avevano una visione che forse non possiamo definire continentale, ma sicuramente europea. Di conseguenza, portare un attimo di attenzione su una figura come quella di Huaco, secondo me, serve a sottolineare come nel periodo delle migrazioni, come nel periodo dei regni romano barbarici, come in questo inizio di Medioevo, così foriero poi di quello che sarà il futuro, ci sia già una dimensione europea che noi tendiamo a dimenticare perché i nostri studi sono figli di una tradizione nazionale. Però, va detto, gli stati in azione sono un dato storico molto recente, ma i nostri programmi scolastici sono figli degli stati unitari, degli stati in azione. C'è qualcosa che è successo pochissimo tempo fa. Forse dovremmo riguardare a questi periodi storici, soprattutto parlo per gli appassionati, perché gli esperti già lo fanno, con un occhio più ampio, un occhio, appunto, europeo. A tal proposito, un invito di cittadinanza. Vi ricordo le future elezioni europee. Non so cosa voterete, spero bene, ma soprattutto andate a votare. Alla prossima e mandi! Alla prossima e mandi! Alla prossima e mandi!